Ciao ragazzi, oggi facciamo delle creazioni Lego pazzesche che ci permettono di fare delle macchine che ci permettono di fare delle reazioni a catena boom esplosive così tra virgolette l'ho realizzata, l'ho realizzata questa super catena con il Lego Cherry Actions della Cluz una marca americana creativa con una super garanzia in fatto di creativi e anche se il libro è tutto in inglese è molto semplificato e l'ho preso su Amazon Italia è veramente una genialata pazzesca perché all'interno abbiamo i pezzi base che ci servono per realizzare una macchina che fa ben 5 reazioni in una, sono 33 pezzi in tutto e poi ci permettono di utilizzare i pezzi che abbiamo a casa per fare altre 10 macchine per realizzare un sacco di combinazioni di reazioni a catena servono per forza i pezzi che trovate qui a fianco in questo libro contenitore? beh in effetti no perché le palline le possiamo recuperare da biglie varie ed eventuali poi anche i pezzi perno eccetera li possiamo in realtà ricostruire in casa se abbiamo dei Lego in casa insomma volendo è tutto ricostruibile qua vedete nel libro che cosa abbiamo i 33 pezzi che abbiamo a disposizione comprese anche la parte cartacea che ci aiuta a realizzare le basi, le guide, i cartelli che siamo poi in grado di andare a movimentare anche questo volendo le potremo riprodurre in casa abbiamo 10 macchine come vedete dalla 1 alla 10 abbiamo rampe, abbiamo leve abbiamo anche la pop up flag che avete visto tutto sfrutta ovviamente la forza di gravità e quindi la possibilità di andare a creare delle reazioni poi consecutive tra una macchina e l'altra creando veramente delle cose pazzesche e straordinarie il libro è scritto veramente molto bene presenta cosa serve, cosa c'è già nel kit, cosa vi serve in casa e come potete stupire i vostri amici o anche ad esempio avete visto il vostro cane la parte finale del libro è fatta di tutta la parte cartacea cartonata per andare a realizzare ad esempio l'imbuto e così via le rampe e avete visto c'è anche un vero e proprio righello che sia in pollici in inch ma è anche per fortuna in centimetri per andare a ritagliare della corretta misura il filo che c'è per andare a realizzare poi le varie reazioni qui vedete tutti gli elementi abbiamo sei palline contenute nella confezione gli altri sono classici elementi lego quindi di varia lunghezza in più abbiamo anche il filo per poi andare a realizzare vedremo l'avete visto anche prima la ruota poi che va a ruotare partiamo dal qui c'è va a ruotare giustamente allora va a filare attorno attorno al pallo che abbiamo creato con i nostri lego partiamo dalla quintople ovvero una macchina che al suo interno ha già 5 azioni che possiamo andare 5 movimenti che possiamo andare a sviluppare il tutto con i pezzi e non tutti anche ne basano solamente un pochi contenuti nella confezione scelgo anche il messaggio che dobbiamo far alzare quindi all'improvviso potrebbe essere un go potrebbe essere lo ye che ho scelto io e poi anche la parte base della rampa eccetera che andremo ad appoggiare su un libro che vedremo deve avere delle dimensioni ad hoc andiamo a costruire secondo le istruzioni che devo dire vi dicevo sono molto precise i mattoncini sono proprio numerati in studs quindi in bottoncini di modo quelli superiori lego di modo da contarvi con precisione e non sbagliarsi mai e poi tutto viene spiegato passo passo avete visto anche con la voce test it quindi ogni volta che avete fatto un piccolo pezzo testate se funziona verificando che il movimento vada in questo modo verificando che la reazione inizia a funzionare eccetera insomma avete la possibilità di non sbagliare perché il libro è fatto veramente veramente molto bene con passaggi semplici chiari ed anche spiegato in maniera in maniera molto ironica è veramente fatto decisamente bene mi sono trovato passo passo così bene che è spiegato addirittura come fare un nodo è un nodo semplicissimo normalissimo ma qua mi viene spiegato proprio passo passo di modo che non potete sbagliare e realizzare quindi il vostro queen top preciso e perfetto qui allora ho nodato la ruota attorno al filo il filo deve essere di una certa misura tutto qua è di scientifica precisione della cluz per cui ragazzi 21 cm devono essere e 21 cm voi tagliate con le forbici a 13 cm ci andate ad inserire avete visto questo tubicino lego chiamamolo così e poi preparate il cartello oie che dovrà spuntare azionato dalla leva che avete costruito che verrà azionato dal martello che abbiamo precedentemente costruito questa è la base cartacea in cui andremo ad inserire i vari elementi che abbiamo costruito di modo che le dimensioni sono rispettate precisamente perfettamente la rampa anche i bordi vi dicevo anche dove mettere i mattoncini gialli hanno i bordi nulla è lasciato al caso prendiamo il libro di giulio coniglio di nicolò barra matilde perché è grande quello che serve cioè ci vuole almeno un libro che sia per lo meno di 18 cm per 18 cm tutto è scritto ovviamente con assoluta precisione all'interno del libro avete visto ho verificato che funzionasse il martello ora vado ad aggiungerci il mio palo con la mia ruota e vado a ruotare in senso anti orario la mia ruota a questo punto carico di energia la mia macchina caricata qua caricata col martello in su caricata mettendo la palla sopra la rampa rilascio la mia ruota che fa partire il martello fa alzare il cartello fa scendere la ruota rivediamolo ragazzi quindi tolgo giù il martello sul cartello fuori la ruota e avete visto funziona vediamolo in super slow motion per vedere appunto tutte le azioni le 5 azioni che avvengono in un'unica macchina realizzata veramente con pochissimi pezzi e ora andiamo ragazzi verso la reazione a catena avete visto all'inizio che ho utilizzato anche un classico domino per cui il bello del domino che viene spiegato anche qua è che un oggetto più piccolo può abbattere un oggetto più grande anche di una volta e mezzo più grande dell'oggetto più piccolo quindi loro stessi suggeriscono di usare mattoncini un po' più piccoli qui ho attinto la mia collezione di casa per poi andare a buttare giù mattoncini un po' più grandi addirittura è stato calcolato da degli scienziati che per buttare giù qualcosa grande come le Empire State Building basterebbero anche una ventina circa di tasselli ben studiati come dimensioni avete visto questo l'effetto slow motion di caduta del domino che fa parte della reazione a catena che vi ho mostrato all'inizio così come fa parte della reazione a catena anche questa alta lena questa leva che andiamo a costruire qua ho attinto sempre di più profondamente ai miei lego ovviamente non importa se abbiamo dei lego di colore diverso l'importante è che siano rispettate le dimensioni in termini di studs di bottoncini infatti avete visto come tutto sia dimensionato nelle istruzioni a studs perché se non rispettate gli studs potrebbe essere che la leva non abbia sufficientemente spazio per andare a abbassarsi alzarsi eccetera se non avete gli elementi corretti come qua io non avevo un mattoncione da 8 studs perché li avevo finiti tutti avete visto ho utilizzato più pezzi piatti per andare a ricostruirne uno quindi potete ricostruire dei pezzi che magari non avete qua ad esempio non avevo due pezzi da 8 allora però avevo un pezzo molto lungo nei nostri lego nexo nice da 16 quindi ho utilizzato un piatto lungo gli ho messo una parte sotto dei due mattoncini per andare a creare lo spessore che mi serviva per la leva e poi ho preparato la leva in questo modo quindi con un po' di fantasia riuscite a ricreare assolutamente con i pezzi di casa stando attenti a dare stabilità alla costruzione infatti c'è anche una pagina dedicata proprio a utilizzate pure i vostri pezzi di casa ma mi raccomando occhio alle linee di rottura fra i lego per creare dei muri solidi delle superfici che quindi non cadano che siano particolarmente stabili quando poi andiamo con le reazioni qua semplicemente aziono la leva la palla che stava in su scende giù per la forza di gravità e ora andiamo a realizzare la parte spettacolare di due leve che si azionano fra di loro con la semplice azione veramente di una pallina che arriva lì col suo tocco leggero in grado in realtà di scatenare un movimento molto molto più importante quindi grazie a un peso va a scendere una delle leve risale l'altra avete visto la bandierina che ci dice boom in questo caso non avevo non potevo più utilizzare i pezzi perché avevo utilizzati precedentemente della confezione ma ho utilizzato i pezzi di casa per realizzare la base per realizzare anche le pareti sono andato un po' in braccio perché sulla base a sinistra vedete ci sono due studs che escono due bottoncini che escono sulla destra in realtà non dovrebbe uscire perché Davide se no come fa la leva quella senza bandiera a girare completamente in effetti non ci avevo pensato ma il bello di sperimentare le cose scientifiche è sperimentarle accorgersi facendo learning by doing quindi imparando sbagliando quello che è il problema andiamo a realizzare anche questa leva ragazzi allora ho cercato di accelerare il video un po' di meno rispetto a quanto faccio di solito nei creativi io accelero il video perché se no ragazzi diventa un video di 45.000 minuti ho cercato di accelerarlo un po' di meno e di darvi la possibilità mettendo in pausa su youtube di vedere i vari passaggi ho fatto le prove prima di caricarlo su youtube direi che mettendo in pausa si riescono a rivedere tutti i passaggi quindi i pezzi che ho unito per andare poi in casa a ricostruire ragazzi recuperando i pezzi che avete magari delle macchine per realizzare delle reazioni catena come queste non avevo quel pezzo perno con i due perni che escono e grigio perché li avevo finiti del set ne avete visto ho utilizzato quindi due pezzettini neri technique da due studs ci ho messo due perni da tutte e due le parti ma purtroppo i pezzi si appiccicano troppo come avete visto la discesa è molto molto lenta e qua ci vuole allora un asse trasversale o bastoncino lego che dir si voglia per le misure degli assi anche qua basta che andate a confrontare gli studs di un mattoncino o quelle dell'asse e le misure sono le stesse e quindi con l'asse ho ottenuto poi quella fluidità che mi serviva non quella appiccicagione invece se così si dice del technique avete visto come è sopposto la base perché altrimenti davide la leva non ruotava perfettamente ed ecco che allora sì il movimento funziona ragazzi e quindi boom esce fuori abbiamo una ulteriore spinta che potrebbe azionare un'altra pallina in realtà questa macchina non è fine se stessa ma potrebbe azionare un'altra pallina ancora questa è la reazione a velocità normale in meno di due secondi è fatto tutto e questo ragazzi è il super slow motion ruota martello cartello poi vi dicevo pallina domino altalena leva rampa e infine boom bandiera esplosiva e volendola in fondo avete visto c'è spazio ancora per azionare un ulteriore anche volendo due palline per andare ancora avanti con la reazione a catena quindi volendo andare a costruire una macchina infernale pazzesca grandissima veramente veramente fantastica è un set che mi è piaciuto veramente molto ragazzi se questo video con superazione a catena vi è piaciuto ragazzi un pollicione se avete domande commenti informazioni ragazzi vi aspetto qua sotto nei commenti al video noi ci vediamo ai prossimi video qui su gbr ciao ciao alla prossima davide